Pivot, due tiri liberi per l'ex giocatore di Avellino e Pistoia Buono il primo tiro libero Corriamo Gara Valida per il sesto turno del campionato di Lega 2 Ryan a segno, due su due per lui Il cambio difensivo che premia Iesima Clark ruba dalle mani di Maggiore una palla importantissima Dall'altra parte il rimbalzo offensivo, il canestro di Brian Mestrello per Meini, si completa il triangolo per Brian Ottimo movimento di Brian Di nuovo in campo il capitano Alviyang Slay contro Wilder Prova a girarsi, Slay non ha vita facile Alza la parabola, conquista il secondo tiro Ancora un errore ma poi ci arriva con una mano Silver Brian Osserva il piazzamento dei compagni Young, serve Imeni Imeni sfrutta il blocco di Brian E la schiacciata imperiosa di Silver Brian E difesa di Iesi che però ha concesso 13 secondi Al termine della partita Più 4 Venezia Miglioni per Helder, attenzione, è la stoppata regolare di Brian